ragazzi questo è il mio biglietto da visita da piazza dante fatene buon uso ok scusate se tremo ma fa un po freddino prima non è di più indifferente questa è piazza dante una delle piazze più folcloristiche frequentate di napoli ma a differenza di tutta napoli qui trovate gente con un po più di disponibilità a esprimere intelligenza colloquialità a esprimere discutibilità voglio riprendere una bella croce qui in piazza dante non si vuole mettere a fuoco comunque lei è questa qua aspettate decisamente non ha voglia è lei va bene ragazzi un bacione per quest'autunno e inverno da napoli nazario ciao 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 Grazie a tutti.